Parliamo di antivegetativa, non possiamo tralasciare International Paint. Siamo in compagnia di Andrea Checchi, il distributore su Viareggio per il marchio. International Paint porta al Sole Nautico di Genova 2018, una novità. Sì, International Paint ha rinnovato, seguendo tutte le normative europee della VPR, tutte le antivegetative. Ha rilanciato facendo un prodotto di punta che si chiama Micron 350, che è una nuova tecnologia SPC e che ha tantissimi solidi, quindi un'ottima resta e una funzionalità anche meglio rispetto alle antivegetative del passato. Naturalmente nello stand di International non sono le novità del 2018. Abbiamo una vasta gamma di prodotti, infatti, a cui il cliente può fare riferimento. Certo, International non è solo antivegetative, ma è un'azienda, una multinazionale che copre tutta la gamma dei prodotti validi per le barche, dagli smalti poliuretanici agli smalti monocomponenti per il fai-da-te, ai primer, agli anticorrosivi, e comunque ai prodotti per interni di sentine, e comunque un servizio a 360 gradi di tutti i prodotti per gli amanti della barca, sia per i professionisti che per i privati. Ringraziando ancora tantissimo Andrea Checchi, questo qua è lo stand di International Paint, questo è il Salone Nautico di Genova 2018.